Come sta andando l'opera lirica in Italia? Bene, l'opera lirica è uno spettacolo tanto meraviglioso, devo dirlo non per pubblicità ma perché ci credo, è vero. Questo spettacolo sta ancora andando bene, diciamo, c'è ancora una buona fascia di pubblico, sicuramente si sta cercando di fare e bisogna cercare di fare di più per rendere possibile la conoscenza di questa forma di spettacolo a sempre più persone. Quindi investimenti nell'ottica della valorizzazione non bastano mai. Ma cosa si fa anche per avvicinare i giovani? Ecco, diciamo, quella dei giovani e dei giovanissimi è una questione su cui puntare, si sta puntando già e su cui bisogna sempre maggiormente puntare, perché spesso l'opera lirica viene sentita come uno spettacolo vecchio, antico, per persone mature, per persone anziane. Questo non è vero e lo si può scoprire andando a teatro a vedere un'opera adesso in tanti teatri italiani. Ecco, ci sono dei palcoscenici sul territorio nazionale che stanno magari tracciando una rotta o hanno una forte attrattiva, quindi riescono a esercitare una forza di gravità anche rispetto a grandi artisti, ma riescono anche a dare una linea che altri emulano. Assolutamente. E possiamo partire anche da vicino a noi. Ad esempio anche il Festival Donizetti di Bergamo ha iniziato un programma per avvicinare e coinvolgere i giovani al mondo dell'opera. Oltre al palcoscenico bergamasco, chiaramente moltissimi teatri in Italia hanno attivi questi progetti, ad esempio il Teatro Petruzzelli di Bari, molti teatri in Emilia Romagna, ha iniziato da quest'anno, credo, anche il Teatro Carlo Felice di Genova. Per citarne alcuni, diciamo, che sono più vicini alla mia esperienza, ma moltissimi teatri lo fanno. Ma può essere che l'opera lirica sia maggiormente valorizzata all'estero o c'è solo qualche distorsione dal nostro punto di vista? Beh, diciamo che noi abbiamo la tendenza generalmente a immaginare che fuori di quello che succede fuori da casa nostra sia sempre migliore di ciò che facciamo noi. È anche vero che fuori dai confini nazionali, in particolare in Centro Europa, c'è un business più attivo. Quindi, diciamo, se parliamo di valorizzazione, sì, è maggiormente valorizzata nel contesto del business dello spettacolo. Però devo dire che anche sul nostro territorio nazionale l'opera comunque ha pubblico e ha comunque anche numerose iniziative che la stanno portando avanti. Quindi, nel senso, troviamo un equilibrio e portiamo anche i giovani all'opera, portiamo i nostri figli, i nostri nipoti, chi avesse una scolaresca proponga di portarla all'opera. Questo non lo dico per far pubblicità al settore, ma perché veramente il teatro, il teatro musicale e questa forma di spettacolo può essere un momento di valorizzazione e di crescita anche per un giovanissimo e anche di divertimento, perché fondamentalmente poi il teatro è intrattenimento nel senso alto del termine e quindi può essere anche una bella occasione di divertimento e di gioco.